Leila? Che c'è? Non è una posa da signorina, eh? Ciao ragazzi, giuro che adesso vado a dormire, stavo solo rileggendo un capitolo di Padre Ricco, Padre Povero, non so se lo conoscete, è un libro di Robert Kiyosaki. E' un libro che io ho lessi, credo per la prima volta, a 18-19 anni, quindi tanto tanto tempo fa. E' un libro piuttosto illuminante, se non lo avete letto lo dovete assolutamente leggere. E c'è questo capitolo che è il sesto, il titolo del capitolo è I ricchi inventano il denaro. E c'è questa, l'avevo sottolineata appena, come vedete questa parte qua, e c'era questa... Vabbè, senza che adesso vi leggo tutto quanto, quello che volevo dirvi erano alcune parole che mi avevano fatto piuttosto riflettere. Ovvero, dice, mi sono reso conto che la maggioranza, quando si tratta di denaro, preferisce giocare sul sicuro. Mi facevano domande del genere, perché prendere dei rischi? Perché dovrei preoccuparmi di sviluppare il mio cosciente di intelligenza finanziaria? Perché dovrei imparare l'ABC finanziario? Ed io gli rispondevo, dice l'autore, per avere più opzioni e possibilità. Opzioni e possibilità, questa è stata una delle frasi che più mi è rimasta impressa. I soldi ed il denaro in particolare muovono il mondo. Non voglio entrare in quel turbine di ragionamenti per cui i soldi non fanno la felicità, i soldi fanno la felicità... Però, insomma, probabilmente è vero che i soldi non fanno la felicità, è vero anche che però, diciamo, i soldi riescono a dare una mano. E i soldi muovono il mondo e quindi ritengo che sia importante sapere e capire, visto che i soldi muovono il mondo, il denaro muove il mondo, come si muove in realtà il denaro e tutto quello che è connesso al denaro. E per questo ho cominciato a studiare per le prime volte, ad avvicinarmi al mondo dell'economia e poi del trading, ovviamente. Quindi, che cosa voglio dirvi con questo libro, con questo video? Che ritengo assolutamente importante che ognuno di noi sia finanziariamente educato, alfabetizzato finanziariamente. Quindi che sappia come e perché succedono determinate cose, come si muove e come fluttuano le valute, le materie prime e quali sono le motivazioni di nuovo. E magari poi, se questa materia lo appassiona, perché no, capire anche come poter guadagnare da questi movimenti, perché è possibile farlo. Insomma, come al solito, la conoscenza ci rende liberi e ci dà delle opzioni in più. Sapere sicuramente ci dà delle opzioni in più. Indipendentemente poi dalla scelta che si compie. Si può compiere la scelta di rendersi conto che quello è un mondo che non ti affascina, è un mondo che non ti piace, è un mondo che ti fa schifo. Però non puoi dirlo per partito preso, non puoi dirlo prima di averlo in qualche modo studiato, di essertici avvicinato. Lo puoi fare dopo invece. Dopo sì che hai la libertà e la possibilità di scegliere con consapevolezza. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Me ne vado a letto adesso che è un po' tardi. Ciao ciao!